presentatevi buongiorno a tutti sono giovanni salti di firenze buongiorno a tutti sono dottor salvatore piero fundarò da modena che cos'è il micro botulino il micro botulino è una tecnica d'innocolo della tossina botulinica che prevede l'innocolo intradermico di modeste quantità di farmaco è una tecnica di utilizzare un farmaco in maniera eccessivamente diluita per avere un risultato di poca o nessuna evidenza che viene usato in zone del viso normalmente non trattate con la tossina botulinica è una moda assolutamente sì peraltro completamente fuori tempo visto che si tratta di una cosa di 15 anni fa almeno il micro botulino non è assolutamente una moda è una tecnica che ampia le indicazioni che ci dà nuove possibilità terapeutiche non si capisce perché questa frenesia collettiva l'abbia riportato in auge visto che i risultati sono modesti è una tecnica che viene importata dall'asia e che può avere anche buone indicazioni dei nostri pazienti è pericoloso non è pericoloso assolutamente no anche perché lo si usa a dosi quasi omeopatiche anzi l'innocolo intradermico ci consente di modulare l'azione della tossina botulinica e ci consente quindi di trattare con maggior possibilità di correzione anche aree che consideriamo solitamente difficili da trattare e quindi non c'è nessun rischio funziona anche per l'uomo il botulino funziona per tutti ovviamente l'uomo nella donna ma in ogni singolo paziente ha indicazioni specifiche la tecnica funziona in base alla corretta selezione che noi facciamo nelle nostre indicazioni funziona per tutti o meglio non funziona per nessuno quindi né per la donna né per l'uomo l'effetto non dura forse troppo poco assolutamente sì dura pochissimo sicuramente l'innocolo intradermico determina un'azione diversa dall'innocolo intramuscolare un mese e mezzo per essere felici e vedere quel minimo di risultato che si può intravedere l'effetto può essere ridotto se ci aspettiamo gli stessi risultati dell'innocolo intramuscolare sicuramente non giustifica il ricorso a un farmaco che comunque ha un costo e che normalmente dà dei risultati che danno una durata una permanenza di effetti molto maggiore l'effetto può essere idoneo e adeguato se ricerchiamo invece il risultato clinico migliorativo connesso con l'innocolo intradermico fate un saluto mi raccomando non credete a quello che vi dice salvi perché la tecnica standard è vecchia come ormai è vecchio quello che ha detto fundarò è totalmente destituito da fondamento quindi non credeteci assolutamente mi saluto tutti quanti spero di vedervi presto al congresso sime un saluto a tutti ci vediamo prossimamente a roma al congresso sime